L'Utel Eden è un piccolo albergo fatto da noi rilevando la villa del pittore Amisani Giuseppe negli anni 60 e trasformandola in albergo con 8 camere con servizi e cercando di migliorarla anno dopo anno vivendo il turismo negli anni 60, 70, 80 per arrivare attualmente con questo turismo di passaggio che è la caratteristica attuale della clientela perché Portofino è una meta sempre conosciuta in tutto il mondo noi abbiamo anche un ristorante e cerchiamo di offrire delle specialità, dei piatti liguri alla clientela dell'albergo e alla clientela di passaggio. Noi apriamo al mese di marzo, chiudiamo a fine novembre per poi fare il periodo natale, capodanno, questo avviene da 50 anni.